Noi siamo la Sicilia, quella vera, voi siete la Sicilia, tutti noi siamo l'unico cuore, la Loth Music Festival è la family. Prendetevene a voi la vostra terra, prendetevene a voi le vostre scelte contro noi nostro. E' una donna straordinaria, è un'imprenditrice e essere imprenditrice in Sicilia è complicato perché sapete bene che di lavoro c'è il fuoco e quando c'è una donna che decide di investire e di creare lavoro va premiata e lei ha avuto il coraggio in un quartiere come San Lorenzo e un quartiere ad alta densità mafiosa di denunciare quelli che gli hanno chiesto il pinso ed è stata costretta ad andare via ed è tornata qui perché ha avuto coraggio e tutti come lei vanno premiate e sostenute. Grazie Valeria, grazie a voi. Grazie.